Il sistema trasversale, partitico, di destra, di sinistra, ma anche trasversale a livello di amministrazioni, il comune e la regione, Odevaine, Zingaretti, Vincenzi, l'ex capogruppo del PD e anche il suo capo di gabinetto, Venafro, erano tutte persone fiduciarie che lavoravano con Zingaretti in provincia. Questo denota un sistema e un disegno che si è protratto e che poi si è insinuato nel comune e in regione. Si dimettono dalle cariche, si dimettono da capo di gabinetto, da capogruppo, ma a noi non basta. Vogliamo che vadano tutti a casa perché continuano a stare lì, a operare, a fare vendamenti per finanziare direttamente municipi, comune, dove all'interno ci sono altri uomini di buzzi fedelissimi, di buzzi e carminati. Creano le emergenze, l'emergenza abitativa, l'emergenza dei rifiuti, l'emergenza sugli immigrati. Creano le emergenze perché le emergenze in emergenza si va in deroga e le deroghe non consentono nessun controllo. E all'interno di queste deroghe marciano sui problemi, speculano sulle esigenze dei cittadini. Basta, abbiamo dimostrato dove governiamo, come appomenzia il mio comune, il comune da cui vengo, che si può amministrare con buon senso, come farebbe qualunque padre di famiglia. Non ci basta che si rimettono dalle cariche, vogliamo mandarli a casa, a casa tutti, destra e sinistra.